Si può fare Nooo Alla vostra sinistra Potete ammirare il bellissimo Mount Ormond Hello Oh, questa sono un'ossessione No, io mi faccio i miei 30 secondi E' la sfida in culo E qua non c'è un pallet, molto male Vedi il pallet, Jack? E' Michael Merdos! E' Michael Merdos E' Michael Merdos E' giravangolo quando stai con Michael Merdos Madonna, la mappa è stata cotta Mi sembra che sono le texture stirate Comunque se non occorrebbe Ci stiamo divertendo Penso che sia già la mia fidanzata Si, allora la aggiungiamo Grande Ragazzi ecco E' già cominciato un lupo feroce qua E quindi... Già lasciate? Si, ce la mettiti alla prova Si, ma fai attenzione perché questo Quello trolla Michael Myers Perché è lento perché sto Mi sta seguendo Vai 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 Mi sta seguendo vai Ora non mi posso girare Si, mi sta ancora seguendo ragazzi Ok, tutto a posto Stunato Stunato Again Again Già lasciate Già lasciate Do consigli della regina Stai arrivando al secondo giro Non so se mi segue Forse non mi segue più Non lo so No il cazzo sta qua sotto Perché non passa in fast Non lo so Sarà stronzo No Vuol dire di di solito due cose L'apide di giudì Lo specchietto Oppure specchietto Ragazzi non lo vedo più Ma sto in una posizione anche un po' di merda Quindi Mi sa che mi ha perso Molto bene Se ti spuggerà dietro Sei fottuto Ma un specchietto Eccolo No No Lascia stare la mia ragazza Storazzo A prendere a quella ragazze Eccato A prendere sopra un gem Annaccia Rebecca Questo errore grossolano O marchiano No No Ecco Salvala tu Pallo Va perciò Così poi Mi Riempensarà Su Dead by Daylight Sì Così mi ricompensarà Con il sesso Salvatore Vabbè questa è pubblicabile Questa partita Praticamente E' quello che stiamo dicendo Però va bene Vieni qua Vai a casa Vai a casa a fare l'uncinetto Questo è un lavoro da No non di là Idiota Ok Avremo il genna al centro mappa e mi vieni Questo non è ancora passato in fase 2 eh Ok Non è bravo Ok mi sa che l'ho perso Se vedete i totemi toglieteli Attenzione che sbucano dal culo del babbui Eccolo Eccolo Ciao specchiato Ok Perché mi lascia Che ha visto qualcun altro Ciao Ciao Paolo Paolo c'è qualcosa in mano Via di questa Via di questa Via di questa Via questa Eccolo Allora ragazzi c'è una possibilità Stratostica Eccolo specchio Se trovate dei totemi toglieteli assolutamente perché lui utilizzerà il nord Soprattutto per la velocità Ok Ok sto facendo un gen Aia Vabbè comunque Ah ma c'ha lo specchietto Quindi non mi posso avvicinare piano Inutile Vabbè Maaa Il 99% dice Cioè non ha fatto Una cosa eclatante No me ne devo andare da qua Devo fare il giro lungo Paolo Aggiornamenti Sto curando Rebecca No ok quindi Ok Le sto indicando di togliere i totem Vabbè chi dà mai genere ragazzi Sennò qua E ora c'è il rischio Stiamo per finire una situazione Stanno Stanno guarda me Stanno guarda me Che si sta a guardar dentro Ragazzi bisogna essere molto aggressivo questo qua Che è lento come la merda è venuta la stronza ma Mi fotte Eh grazie 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 Che sapevamo La tua fidanzata c'ha una sbarra nei c***o Oh come ti permetti Tolgo questo totem che sta qua Bravo Ok ultimo genno dai ragazzi No vedi che mo ti vede eh non è che Ma chi a me dici No chi sta là dietro Ah è sempre Ah adesso vengo farmato di nuovo ragazzi No 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 Rebecca non fa stracciare Ce l'hai borotime Vai 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 Si si Che c***o body block Rebecca Oh ma ti cominciò a fare su genno Paolo vieni Io guardo Emilia è stato rasciato solo Corri Emilia Corri Vai Rebecca Ah è sempre un bello c***o È ma bella Eh vabbè Grazie Rebecca Per aver farmato di nuovo Grazie Ok uscite Adesso il no è da in arrivo Ok Apri quella O no Avalos Sto andando verso l'uscita Bottando un occhio ai totem Oddio mi mi sono perso l'uscita Ah no l'ho trovata Occhio Oh c***o Olè Ha mancato Dio di puttana Sta prendo l'uscita eh Paolo Grande Vieni vieni torna pure indietro Sto al 50% Appena poi ovviamente 70 80 90 Fatto l'uscita aperta Oh c***o non c'è il nord Metti di mezzo Metti di mezzo Metti di mezzo Metti di mezzo Rebecca my love Vai vieni Rebecca Vieni No 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 Chi sta stalkerando Ah tre ore dopo ragazzi Seconda fase No c'ho la lapide ragazzi Vieni via 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 ora dirà si first game no scherpi allora come è carina no è proprio carinissima me l'ha messa a r... faccio